Ciao, la Fucina, birra artigianale, Isernia, come mai, come è nato, perché? Perché c'erano tre ragazzi che facevano birra in casa, un giorno hanno deciso di, invece che darla solamente agli amici e parenti, di rendere felici tutta l'Italia e l'estero. Ok, la vostra specialità? Fare birra. Tra le birre le preferite, la mia preferita è la B-Side, che è la prima birra che abbiamo fatto in collaborazione. La mia la liberi tutti, non si dovrebbe dire però, è come con i figli questa cosa, non c'è mai il figlio preferito, però alla fine dobbiamo ammettere le debolezze. Come è fino adesso la vostra esperienza? Quanto tempo siete operativi? Come è la vostra esperienza professionale? Come verrete il futuro prossimo? Siamo operativi da un anno, siamo operativi da un anno e il futuro sembra rosio per fortuna. La scommessa che abbiamo fatto di tornare a fare un'impresa, un'azienda in Molise per ora si sta rivelando vincente e questo ci dà sicuramente orgoglio e coraggio per andare avanti, quindi siamo assolutamente ottimisti. Ok, grande. Mezzo preferito, Asino, G4 Strada o Cavalo? Io preferisco Asino. Asino. Asino, sempre Asino, tutta la vita. Asino.